Salve a tutti! Ecco qui finalmente ultimata la schedina del mezzo ponte. Nello scorso video vi avevo fatto vedere come sarebbe stato lo sbroglio ed ecco qui quindi come si presenta una volta costruita. Abbiamo qui l'ingresso, la tensione di alimentazione, l'uscita su questo connettore dove andiamo a cambiare l'induttore che andremo a provare di volta in volta e qui lo shunt di corrente, quindi la resistenza di shunt che ho preferito metterla di 0,2 ohm in quanto 0,1 mi sono reso conto che forse era un po' troppo piccolo come valore. Qui vediamo lo stato dell'ldo con il driver e questo è il mezzo ponte con i due attivi e come si può vedere è facilmente smontabile, quindi di volta in volta si possono cambiare per andare a testare altri part number. E poi qui si può vedere che il nodo di switching con il loop su questi condensatori e questi altri condensatori è davvero molto molto piccolo quindi diciamo che i disturbi di condotte e forme d'onda strane sull'oscilloscopio dovrebbero essere molto molto ridotte. E qui mi sono dimenticato di dire in ingresso questo è il filtro lc quindi questo è l'induttore è molto piccolo perché appunto i disturbi maggiori saranno ad alte frequenze quindi non non c'è la necessità di mettere un induttore di grande valore. Molto bene quindi adesso che la scheda è ultimata andremo a fare qualche piccolo test sia per verificare che in effetti funziona correttamente e sia per vedere appunto come può essere utilizzato questo mezzo ponte quindi quello che farò sarà andare a testare un induttore di prova che ho già selezionato e che risulta essere questo qui è un induttore per alte frequenze alte correndi ed ha un valore di circa 90 micro r quindi ho selezionato questo perché ha davvero un comportamento molto molto lineare quindi potremmo apprezzare meglio le forme d'onda del circuito. quindi andrò a connettere l'induttore sul connettore di uscita del circuito e con le sonde dell'oscilloscopio andremo a vedere cosa succede sul nodo switching del mezzo ponte e sulla resistenza di shunt. Adesso quindi preparo il setup e poi ci rivediamo direttamente per la fase di test. ecco qui il setup pronto quindi ho connesso l'induttore all'uscita del circuito ho collegato il generatore di PWM quindi in questo momento siamo a 150 kHz con il 50 per cento di duty e ho connesso le sonde quindi questa sonda va allo shunt di corrente mentre quest'altra è sul nodo switching. Quindi adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo nel circuito attraverso l'oscilloscopio. Ed ecco qui quello che vediamo abbiamo quindi in giallo la forma d'onda della tensione sul nodo switching del mezzo ponte mentre in azzurro l'andamento della tensione sulla resistenza di shunt quindi in pratica ogni 200 millivolt corrispondono a un ampere. In questo momento il circuito sta appunto lavorando alla frequenza di 150 kHz con il duty del 50 per cento e le forme d'onda che stiamo vedendo sono corrette e perfettamente congruenti con appunto il funzionamento attuale. Infatti possiamo vedere che quando il valore di tensione del nodo switching diventa positivo la corrente sullo shunt aumenta mentre quando il valore va a zero la corrente diminuisce e diventa negativa perché va a scaricare le capacità che sono rimaste cariche sulla maglia LC. In questo momento sull'induttore sta scorrendo una corrente di circa più o meno 100 mA. Infatti la scala è di 20 millivolt e la corrente varia fra meno una divisione e più una divisione quindi il range di corrente è quello lì. Mentre per quanto riguarda l'andamento di tensione sul nodo switching vediamo chiaramente che il circuito sta lavorando perfettamente in Zvs e questo lo capiamo dalla presenza di questi picchettini qui. Quando vediamo questi picchetti capiamo che il circuito è in Zvs e in questo circuito questa condizione è normale perché la frequenza di risonanza lc di quella maglia è molto molto più bassa rispetto alla frequenza a cui stiamo lavorando proprio perché ci sono valori di capacità davvero enormi. Molto bene adesso vediamo cosa succede se vado ad abbassare la frequenza di switching. Quindi diminuisco ecco qui come possiamo vedere abbassando la frequenza il ripple di corrente sull'induttore aumenta e questo è perfettamente normale in quanto diminuendo la frequenza l'impedenza dell'induttore diminuisce. Quindi continuo a scendere. Ok in questo momento il ripple di corrente è più o meno 0,5 ampere alla frequenza di 37 kHz e inoltre come possiamo vedere il circuito è rimasto perfettamente in Zvs infatti ci sono ancora questi due picchettini. Inoltre come si può vedere sia il segnale del nodo switching che il segnale sullo shunt sono davvero molto 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 puliti tranne in questi punti qui dove appunto avviene la commutazione quindi si ha un forte disturbo in in emissione. Ma questa pulizia del segnale dipende molto da come viene sbrogliata la scheda quindi in questo caso vediamo che lo sbroglio è riuscito piuttosto bene. Molto bene quindi il circuito funziona perfettamente. Molto bene quindi questa scheda a mezzo ponte è completa e pronta per essere utilizzata per i test ovviamente poi nel corso dei progetti del canale si vedrà meglio il suo utilizzo per quando riguarda i test sugli induttori e i test per le applicazioni induttive su cui poi ovviamente saranno fatti dei video dedicati ma in quei video si capirà poi meglio il funzionamento e l'utilità di questa schedina a mezzo ponte. Molto bene quindi come primo prototipo sono davvero molto molto soddisfatto ovviamente ne seguiranno altri di prototipi di schedina a mezzo ponte soprattutto per aumentare la tensione del mezzo ponte e la potenza che riesce a trasferire. Ma per il momento questa qui per l'utilizzo che ne voglio fare è più che sufficiente. Molto bene allora per questo video è tutto alla prossima